Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. In questo mini video, ho voluto creare questo mini video perché ho veramente l'esigenza di rispondere a delle domande, soprattutto per chi è neofita e magari non sa come destreggiarsi. Allora, intanto vi dico, per scaricare una patch ci sono 10.000 tutorial su YouTube, seguiteli passo passo. Però la domanda più ricorrente che mi fanno spesso è, Alex, quando vado a giocare un amichevole non trovo le squadre, ci sono i nomi inventati, perché naturalmente, generalmente le patch cosa che fanno? Vanno a coprire il campionato Legapeu, il campionato PAS, il campionato PLA, dei rispettivi continenti, con le squadre appunto fittizie, dove chiunque può sbizzarvirsi. Intanto volevo presentarvi questa nuova patch che ho trovato veramente curiosa, veramente divertente, secondo me, per chi vuole rivivere un po' il passato nel bene o nel male, soprattutto nel male per chi è tifoso juventino, come sottoscritto, perché vedrete diverse Juventus. Si chiama UEFA Champions League Finance. Praticamente sono le finaliste di Champions League, delle ultime edizioni, sostanzialmente. Attenzione, le squadre che andrete a vedere sono i convocati per la partita, non le rose complete, ma solo i convocati per la partita in questione. Andiamo a vedere le squadre. Il Barcellona del 2014-2015, quello che batte la Juventus, eccola qui, finale 2014-2015. Infatti questa partita voglio rigiocarla, perché mi sta proprio sulle palle, perché secondo me la Juventus lì avrebbe veramente grandi possibilità di vittoria, se l'avesse gestita meglio sull'1-1. Invece con Real Madrid, che ne prese 4, arrivò troppo carica, convinta di farcela, in realtà non successe nulla. Ma quella Juventus lì poteva farcela. Beh, la finale di Wembley, Barcellona-Manchester, questa invece è la finale di Roma, Manchester-Barcellona di nuovo. Guardate come è cambiata poco le squadre, soprattutto il Barcellona, ha cambiato pochissimo. Milan-Liverpool, la rivincita dello stadio non di Istanbul, quell'altra, dove il Milan vinse 2-1. Barcellona-Arsenal l'ha decise, quella volta Belletti, se non sbaglio, sì esatto, che è in banca. Non mi ricordo in che sede venne giocata Barcellona-Arsenal. Poi, questa è una partita che ripeteremo, ve la ricordate tutti i tifosi milanisti, quindi... Non voglio rigirare il coltello nella piaga, come questa partita qui. Anche questa finale qui, la Juventus secondo me poteva farcela, l'avesse giocata un po' meglio. Invece il Milan arrivò senza nulla da perdere e poi se la vince. Vedete che non c'è Nedved, che venne squalificato in semifinale e non si giocò la finale. Ecco perché, vi dicevo prima, solo i convocati per la partita. Poi, UEFA Champions League 2001-2002, col gran gol di Zidane al volo sul Bayern Leverkusen di Ballack. Anche questa partita, cambieremo poi i loghi comunque della Juventus, anzi li cambiamo subito. 97-98, questa Juventus poteva vincerla. E poi, beh, io abitavo a Dortmund quell'anno, vi dico solo questo, che abitavo a Dortmund quell'anno lì. Quindi, questa è la Juventus 96-97. E il Borussia Dortmund, che però, se la meritò. Andiamo a modificare intanto i loghi della Juventus, perché secondo me il logo qui non ci sta proprio. E ne troviamo uno più... eccolo qua, perfetto. Troviamo questo. No, questo è scuro. Andiamo a cercarne uno migliore, perché ne ho tanti, quindi... Beh, dai, mettiamo questo, poi alla fine era uguale. Anche se... sì, perfetto. Perfetto. E poi mettiamo anche qui stessa cosa. Lo stemma era quello. Questo è il 2014-2015, stilizzato. Quindi andiamo a mettere di nuovo questo. Però non mi piacciono quegli stemmi che li hanno messi, non so neanche perché li hanno messi. Quindi, ok. Modificato questo discorso qui, naturalmente, se volete fare qualche modifica, andate pure. E l'importante è che salvate sempre, come sto facendo io adesso. Ok, adesso andiamo a giocarci un amichevole. Non la giocheremo tutta. Giochiamo l'inizio. E basta. E tanti in punto mi dicono, Alex, io dopo arrivo e non trovo più le squadre. Come mai? È molto semplice. Cioè, il gioco si poggia sull'aggiornamento live. Fondamentalmente è quello il discorso. Voi dovete... Vedete? Quando io vado a selezionare le squadre... Guardate, andiamo a prenderci proprio sta finale qua, che secondo me la Juventus poteva farcela e di brutto. Però qual è il problema? Perché ci sono i nomi inventati? Mi chiedono tutti. Perché? Vi ho detto. Il gioco si basa sull'aggiornamento live. Quindi, quando voi installate una patch, non è ancora completo il discorso. Vedete che c'è scritto sotto R3, che non è nient'altro che la levetta a destra. Voi cliccate la levetta a destra, aggiornamento live, no. Guardate i valori delle squadre come cambiano. Vedete? 86-90-81. Real Madrid 85-84-82. Eccoli qua! Eccole qua le squadre. Eccole qua le squadre. Tra l'altro, molto bella, perché... Poi era, mi pare, la formazione che giocava poi in campo quella sera lì. Quindi potete modificarla come volete e come preferite. Io giocherei però così, perché Torricelli era un bel terzino destro. Di Livio, naturalmente. O ci mettiamo Conte? No, ci mettiamo Antonio Conte, va. Andiamo direttamente in campo, senza tante smenate. Andiamo a vedere giusto la presentazione. Quindi fondamentale, ragazzi. Schiacciate quel tasto R3. È la levetta a destra del vostro joypad. La cliccate. Aggiornamento live, no. E succede quello che succede. Ok, non è stadio delle Alpi, proprio non si può vedere. Eccola qua. Andremo a modificare poi alcune cose, tipo la dimensione dei numeri, perché magari non è proprio perfetta. Però, ragazzi, questa è la patch. È una patch divertente. Se volete... Un attimo che abbasso il volume. Se volete rivivere un passato un po' recente, beh, questa è una bella patch. Giusto da tenere, tipo, un mesetto e poi cancellarla. Naturalmente, un consiglio che vi do, quando giocate con tante patch, primo, controllare il numero delle immagini importabili, perché riguardano la totale memoria di PES, non una memoria divisa su tre account, prima cosa. Perché tanti mi scrivono, ma non riesco più a importare le squadre. Come mai? Esauriti gli slot, quindi o vai a cancellarti delle divise, oppure decidi con che squadre vuoi giocare, se con le squadre classiche o con le formazioni attuali. Io ho cercato di combinare un po' tutto. E poi, soprattutto, suddividerle in più account. Perché? Perché tante volte mi dicono, ho installato questa patch e mi ha cancellato la Bundesliga. E te credo, la Lega Peu è una, non sono tre. Quindi è normale che, se voi installate una patch che va a sovrascrivere la Lega Peu, andrà a sovrascrivervi la Bundesliga, tutto lì. E quindi è questa. E soprattutto, ripeto, schiacciate R3. Se non trovate le squadre, schiacciate R3 e le troverete. Questo è quanto. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Più che altro, non perché mi rompa le palle rispondervi, ma perché, in un certo senso, ci sono... le cose sono molto semplici e senza tanto perdere la testa. Cioè, se ci riesco io, che non sono proprio un afferrato, ci può riuscire chiunque. Ragazzi, godetevi il vostro PES, qualunque esso sia. Se attuale, se classico. Io probabilmente giocherò una Master League strana. L'avevo fatto in una video live. Ve la rimostrerò però inregistrata. Perché a quanto pare la live non la trovate tra i miei video. E niente. Grazie a tutti. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Ciao a tutti. Ciao a tutti.